Falsi Green Pass indagati sanitari da Rimini a Pesaro. Giovedì 7 aprile, buona serata. Benvenuti al nostro telegiornale, il telegiornale ufficiale di Pesaro e provincia che vedete tutte le sere da lunedì al venerdì su Rossini TV Canale 80. Questa sera apriamo parlando di un'operazione dei carabinieri partita da Rimini ma che ha coinvolto anche la provincia di Pesaro. Dieci misure cautelari sono infatti state eseguite questa mattina a carico di medici e sanitari che, pensate, producevano falsi Green Pass al momento delle vaccinazioni anti-Covid. Nelle province di Rimini, Pesaro Urbino, Ravenna e Napoli, i militari del nucleo antisofisticazioni di Bologna, coaudiati dai NAS di Parma e dai carabinieri dei rispettivi comandi provinciali, hanno eseguito un provvedimento di arresti domiciliari, due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e sette di vieti di esercizio della professione sanitaria per i reati di corruzione e falso ideologico. L'indagine partita a ottobre ha scoperto un medico riminese che si avvaleva dell'intermediazione di varie persone di fiducia, anche nel pesarese, per farsi pagare 250 euro ogni Green Pass falso prodotto. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo mostrato l'intervista del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, molto critico nei confronti del ritardo dell'assenso della regione Marche all'approvazione del finanziamento dell'arretramento della ferrovia su Pesaro. Ricci ha attaccato in particolare l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, il quale ha poi replicato giudicando la reazione del sindaco di Pesaro scomposta e irragionevole. Baldelli inputa piuttosto a Ricci di non aver partecipato agli incontri di confronto fra sindaci della costa organizzati dalla regione e di non aver così preso parte alla preoccupazione dei territori su un aumento del trasporto merci impossibile da sostenere, se verrà mantenuta l'attuale struttura ferroviaria nel resto delle Marche. Si chiama giustizia riparativa il nuovo progetto di inclusione sociale che porterà chi ha commesso reati penali minori ad essere impegnato in lavori socialmente utili. Comune di Pesaro, Onlus Gulliver e Marche Multiservizi hanno cominciato quindi a coinvolgere un centinaio di persone nella cura del verde pubblico. Questa mattina sono stati i volontari della Onlus Gulliver ad armarsi di scopa, paletta e rastrello e ripulire il Parco Maestri del Lavoro delle Cinque Torri. Presto, a curare quello stesso verde pubblico saranno anche alcune persone individuate nel cosiddetto programma di giustizia riparativa, ovvero coloro che devono scontare un reato penale minore e che per l'occasione saranno impiegati in lavori socialmente utili come la cura del verde. Si parte dalle Cinque Torri per poi allargare l'azione anche negli altri quartieri per un volontariato da 120 ore settimanali. Un progetto di riabilitazione e inclusione sociale che unisce gli sforzi della Gulliver al coordinamento di comune e Marche Multiservizi per l'occasione rappresentata dal direttore ambiente Franco Macor che rifornirà i volontari di guanti, attrezzi, scarpe e sacchi della spazzatura. Il progetto nasce dall'accordo con Gulliver e l'UEPE, l'Ufficio di Esecuzione e Penali Esterne di Ancona. Ogni anno Gulliver riceve 100 persone che hanno commesso dei piccoli reati, parliamo di guida di stato di ebrezza o piccole cose. La maggior parte sono i cittadini pesaresi che devono scontare chi alcune settimane e chi alcune mesi. Con queste persone, quindi non con volontari, saremo nei parchi cittadini ogni mattina per 4 ore e assicureremo 120 ore di lavoro settimanale per la pulizia dei parchi. Quindi un ringraziamento all'UEPE di Ancona, al Ministro della Giustizia che crede in Gulliver, Marche Multiservizi e al Comune che appoggiano questo progetto per la città di Pesaro innovativo e mai sperimentato. Coordinerò un gruppo di ragazzi, di persone che con il buon cuore e con la voglia di fare cureremo le aree verdi della nostra bella città di Pesaro. Questo è l'impegno che noi ci mettiamo e che vorremmo portare veramente a fine in fondo perché avere parchi pubblici ma anche i parchi scolastici è importante tenuti puliti in ordine, al di là poi della pulizia del verde che viene fatta normalmente. Noi ci mettiamo tutto il nostro buon cuore. Il nostro obiettivo assieme a Marche Multiservizi è quello di avere la città sempre più pulita. Siamo partiti già anche con i percettori del reddito di cittadinanza e quando c'è stata proposta questa iniziativa noi l'abbiamo accolta a braccia aperte sia all'amministrazione comunale che a Marche Multiservizi. Siamo sicuri che questo sarà non solo un lavoro che renderà i parchi un pochino più puliti ma anche un segnale perché vedere gente che pulisce poi dovrebbe far riflettere quelli che sporcono. Io dico sempre l'erba magari cresce perché per un periodo piove tanto e quindi bisogna tagliarla più spesso, invece la mondezza per terra quella non cresce. Ed ora ci spostiamo nel quartiere di Villa San Martino per un caso giudiziario molto particolare. Il titolare cinese del supermercato Ilia Market di Via Ponchielli è infatti finito a processo dopo una verifica dell'ispettorato del lavoro che ha rilevato un sistema di videosorveglianza di 60 telecamere ovvero troppe non autorizzate e reputate lesive dei diritti di privacy dei dipendenti. La difesa del supermercato si è opposta al decreto penale di condanna aprendo un processo in cui si ritiene la videosorveglianza adeguata al rischio di furti in un supermercato di quelle dimensioni. E finalmente ritornano i grandi eventi del nostro territorio. Noi di Rossini TV quest'anno torneremo a seguire la fiera dei cavalli la consueta fiera dei cavalli che si terrà a Cantiano ed è anche questo primo grande evento incluso nel programma di Pesaro capitale della cultura 2024 allargato proprio all'interno del contesto provinciale. In attesa dell'appuntamento clou che sarà alla fine di aprile che appunto noi di Rossini TV seguiremo Cantiano Fiera Cavalli avrà una piccola anteprima proprio questa domenica a Pesaro. E' Cantiano Fiera Cavalli il primo dei grandi eventi ad essere inserito nel programma di Pesaro capitale della cultura 2024 allargato all'intero territorio provinciale. L'evento alle pendici del Catria arriva in riva all'Adriatico non solo perché il municipio pesarese ha aperto oggi le sue porte all'amministrazione e all'evento cantianese ma perché la Fiera Cavalli avrà una sua piccola preview anche a Pesaro dove domenica dalle 14 alle 17 i cavalli del Catria e i loro cavalieri saranno all'ombra della palla di Pomodoro per una anteprima di avviamento all'equitazione e per spiegare e mostrare la bellezza e le caratteristiche di questi splendidi equini. Un antipasto prima del piatto forte del 30 aprile 1 maggio con Cantiano Fiera Cavalli che a Chiaserna aggiunge un'inedita versione primaverile rispetto all'abituale collocazione di ottobre della Fiera. Noi siamo molto gratificati e onorati di poter fare questa prima questo lancio da Pesaro in questo circuito, in questa virtuale in questo percorso che in 80 chilometri unisce la nostra bella provincia dal mare al massiccio del Monte Catria passando tra le eccellenze territoriali. Noi crediamo che ogni comune possa tramite la sua eccellenza rappresentare e promuovere l'intero territorio. Cantiano con il cavallo del Catria, quest'unica razza autoctona della regione Marche crea un fattore attrattivo che ormai è secondo solamente a Verona Fiera Cavalli in un contesto ambientale di pregio con eccellenze agroalimentari di qualità e quindi crediamo che attorno a questo volano che appunto è questo elemento identitario che è il cavallo si possa creare ancora più economia di quella che esista attorno alle tipicità e all'economia che si genera su questo settore. Abbiamo questo cavallo del Catria che è una ricchezza di tutto il territorio e io quanto penso alla bellezza di questo cavallo mi ritorno alla mente quando negli anni, a metà degli anni Ottanta Pierina Scaramella purtroppo che abbiamo un po' dimenticato che era stata una professoressa e che aveva aperto l'orto botanico Urbino tenne una conferenza a Verona sul fieno del Catria per cui il cavallo del Catria mangiando quel fieno lì lei diceva che addirittura i doggi di Venezia lo richiedevano per i loro cavalli e per le loro stalle credo che sia un evento a cui tutta la provincia deve prestare attenzione e una volta che arriviamo lì riportiamo via un po' del pane di chiaserna che è uno dei migliori del territorio. Ed ora il consueto spazio dedicato agli appuntamenti cominciamo dalla rassegna teatri d'autore organizzata da Amat che domani venerdì 8 aprile al Teatro Apollo di Mondavio propone Siamo realisti, chiediamo l'impossibile viaggio attraverso le canzoni di protesta di e con Nicolas Ciufferri e Francesco Cavecchi l'appuntamento inizia alle 21.15 altra rassegna organizzata da Amat è Teatro Oltre che sabato 9 aprile porta sul palco del Teatro Angel del Fuoco di Pergola la band dei Mutonia, la cui graffiante musica rock ha infiammato la vetrina televisiva del talent show X Factor 2021 gareggiando nella squadra di Manuel Agnelli Ultimo appuntamento invece per la stagione teatrale della piccola ribalta nella sede della compagnia di Via dell'Acquedotto sabato 9 aprile alle ore 21 domenica 10 aprile alle 17 andrà in scena El Curtil commedia brillante in dialetto pesarese scritta e diretta da Massimo Cimini e Stefano Gennari Ed ora passiamo alle consuete notizie di sport sabato 9 domenica 10 aprile Fano ospiterà il 23esimo campionato nazionale CSA di Corsa Campestre attesi 1200 atleti come ci spiega in questo prossimo servizio Simone Celli La carica dei 1255 ecco quanti saranno gli atleti che nel fine settimana raggiungeranno Fano teatro del 23esimo campionato nazionale CSI di Corsa Campestre ambita competizione durante la quale saranno 28 i titoli in palio l'evento gode del patrocinio e della compartecipazione dell'amministrazione comunale e del consiglio regionale delle Marche oltre alla collaborazione della Proloco di Fano Sì è una manifestazione bella e di grande valore perché è un campionato nazionale del centro sportivo italiano di Corsa Campestre quindi i migliori atleti delle società sportive affiliate al centro sportivo italiano si daranno battaglia al parco urbano e sabato mattina ciascuno nella propria categoria avremo delle rappresentanze molto qualificate soprattutto delle regioni del nord Italia che sono quelle dove storicamente la corsa campestre è più diffusa, più praticata anche per ovvi motivi di conformazione morfologica del terreno e comunque sia anche noi daremo battaglia perché anche le nostre società sportive seppur in maniera minore sono presenti tra parentesi anch'io poi domenica mattina ci sarà un ulteriore evento collaterale che si chiama Staffetta delle Regioni che sarà una gara appunto come dice il nome a Staffetta nella zona del porto il più piccolo in gara ha appena 10 anni il meno giovane 79 anche se tre iscritti su 5 hanno meno di 14 anni quelle di sabato 9 e domenica 10 aprile saranno dunque gare di grande livello ma anche trasversali e universali è una manifestazione sportiva molto importante che ringrazio il CSI per averla organizzata e di carattere popolare ma anche molto partecipata perché parliamo di 1250 persone iscritte da 10 a 79 anni e all'interno include anche tutto quello che è il tema della disabilità per cui lo sport per tutti torna a questo gingolo importante proprio per favorire anche quello che è un ritorno alla normalità e soprattutto anche allo stato del benessere che ci porta si svilupperà in due giornate una sabato sul parco urbano di Luciano Polverari e quindi su un'area verde e la domenica invece su tutto quello che è il comparto del mare Marina dei Cesari sono due tipologie sportive naturalmente diverse ma che sono comuni allo stesso obiettivo quindi lo sport per tutti a darsi battaglia saranno ben 104 società sportive la città della fortuna sarà rappresentata da 7 atleti 4 di Fanocorre e 3 del CSI di Pesaro Urbino la prima competizione scatterà sabato alle ore 9 al parco urbano la sera intorno alle 18 la Santa Messa delle Palme nella chiesa del Vallato domenica le 9 regioni si sfideranno invece a Marina dei Cesari in un percorso panoramico ad Anello un programma ambizioso così come lo sono i propositi di questa iniziativa che unisce inevitabilmente sport e promozione turistica un binobbio assolutamente vincente da un po' di tempo che ci lavoriamo per cercare di destagionalizzare anche tramite lo sport e in questo mese proprio nella città ci saranno 4 eventi molto importanti abbiamo partito, abbiamo organizzato in questi giorni anche l'Adriatic Green Trail oggi un grande evento di carattere nazionale perché sarà appunto una corsa campestre che viene realizzata in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città che è la zona del parco urbano, la zona dell'aeroporto devo dire che ha portato oltre ovviamente i benefici sportivi che tutti conosciamo devo dire che sta portando grandi benefici anche per il progetto che abbiamo di accogliere le persone portare le persone qui nella nostra città sabato mattina ci troveremo ad inaugurare questa questa bellissima manifestazione sportiva che insomma darà respiro e darà quest'area di ripartenza dopo questo difficile periodo che stiamo vivendo nella nostra città Continuiamo a parlare di sport, in questo caso di calcio la Vispesaro è in viaggio infatti verso la Sardegna per la trasferta più lunga della stagione sabato alle 14.30 giocherà infatti ad Olbia la terz'ultima partita di campionato un match delicato in chiave playoff che è stato presentato oggi dall'allenatore Marco Banchini nella conferenza stampa seguita per noi da Giorgio Ricci Allora ho fatto questo passaggio con i ragazzi adesso abbiamo ancora due partite Olbi e Molese e dobbiamo essere ancora opprimi o secondi alla fine di questo trenino questo è il mio passaggio e i calcoli che stiamo facendo L'Olbi è una squadra che viene dagli ultimi quattro pareggi aveva perso in casa una gara e rimonta con il Siena subendo un gol nel minuto di recupero dopodiché ha fatto 3-0-0 un 1-1 squadra molto equilibrata squadra che è abituata a fare questi campionati diciamo dove l'equilibrio e la continuità gli permette di poi finire con l'obiettivo che hanno in testa e quindi sarà una squadra che oggi proprio per questa serie di continuità di risultati invece io mi aspetto venga e possa rischiare qualcosa in più sarà difficilissima a livello emotivo perché loro hanno un ambiente a favore e un ambiente dove ci sarà la ricerca dei punti per la salvezza sarà difficile essere competitivi però noi abbiamo gli strumenti giusti per risolvere questi problemi l'obiettivo è arrivare primi o secondi alla fine di queste due partite se abbiamo visto che arrivare primi in queste ultime due è stato fatto con 3 punti su 6 dobbiamo solo pensare a fare quei calcoli quando hai un obiettivo e mancano poche partite non c'entra niente la trasferta i numeri statistiche diciamo è evidente che fare punti in trasferta in questo momento della stagione vale doppio e continuiamo a parlare di sport perché questa sera così come tutti i giovedì su Rossini TV si parla di basket con insieme a Canestro con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro saremo in diretta alle 21.20 non perdete questa nuova puntata con Giovanni Illuminati e Amos Benevelli potete commentare con il numero di Whatsapp oppure commentare nella diretta Facebook per ricevere biglietti gratis per le prossime partite e poi vi ricordiamo che domani torna il nostro telegiornale dedicato al Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine tutti i venerdì alle 20 e poi qui lo potete vedere in replica il sabato, la domenica, lunedì e martedì un approfondimento con le notizie di questo territorio mentre sabato 9 aprile una nuova puntata di Guipesaro TV ospite Francesca Franco e Lucci condotto da Antonio Astuti l'appuntamento è alle 13.30 e poi vi ricordiamo anche il nuovo programma di Rossini TV in collaborazione con il Pesce Azzurro Quiz Show appunto con i comici del San Costanzo li potrete vedere anzi potrete vedere questo programma a partire da martedì tutti martedì e giovedì alle ore 19 e vi ricordiamo anche che domani torna la rassegna stampa Buongiorno Rossini con voi ci sarà Daniele Sacchi in diretta alle 7.20 Ho detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi vi voglio ricordare però questa sera anche il numero per le segnalazioni mi raccomando segnalate le cose che non vanno le cose che volete denunciare al nostro numero fisso di Whatsapp il numero che vedete in sovrimpressione grazie adesso il meteo grazie a tutti